Per carenze igienico-sanitarie strutturali e assenza di autorizzazione all'attivazione della mensa in un asilo nido di Pescara è stata sospesa la refezione e tutte le attività di manipolazione e somministrazione di alimenti. I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno eseguito controlli in 700 mense scolastiche italiane di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, dalle scuole dell'infanzia agli istituti superiori ed universitari. Nel complesso sono state riscontrate 225 violazioni amministrative o penali con sanzioni pari a 130.000 euro, denunciati 5 gestori, sequestrati punti di cottura e dispense e 350 kg di alimenti, in particolare cibi in cattivo stato di conservazione privi di tracciabilità scaduti o con etichettatura irregolare, per un valore approssimativo di 5 milioni di euro. I NAS hanno accertato in una mensa scolastica su 4 del territorio nazionale carenze igienico-strutturali, insetti ed escrementi di roditori, autorizzazioni mancanti e pasti carenti per quantità e qualità, assenza di tracciabilità degli alimenti o messa presenza di allergeni. I controlli sono scattati dall'inizio dell'anno scolastico. A Treviso, sotto sequestro amministrativo, un centro educativo per l'infanzia che gestiva bambini di età compresa tra 2 e 6 anni, trovato privo di autorizzazione all'esercizio della riflessione scolastica e di registrazione sanitaria, mentre a Caserta, il titolare di una ditta incaricata del servizio di fornitura vitto per la riflessione scolastica, è stato denunciato per frode nelle pubbliche forniture, poiché apponeva l'etichetta della ditta sulle vaschette di pasti che invece venivano prodotti da altre aziende.